Mi chiamo Iuri Berio Rapetti. Emanuele Palazzo. Mi chiamo Manuela Zanella. Insegno filosofia e storia al liceo classico. Arte e immagine. I miei studenti mi hanno insegnato ad essere più spontanea. I miei studenti mi hanno insegnato che uno capisce bene una cosa soltanto quando è in grado di spiegarla. Sospendere il giudizio e mettersi alle pari. Faccio il lavoro che faccio perché mi piace vedere negli occhi dello studente quella lucina che si accende quando ho capito qualcosa che ho spiegato. Faccio il lavoro che faccio perché mi piace capire le cose e mi piace capirle spiegandole ad altri. La reciprocanza e condivisione. E accorgersi che non siamo soli. La reciprocanza è una mano che dà e una che riceve. La solidarietà è dare senza per forza avere. La solidarietà è mettersi nei panni degli altri. La solidarietà è aiutare qualcuno che ne ha bisogno non solo economicamente. Il mutuo soccorso è una forma di aiuto. Il mutuo soccorso è una responsabilità. Il mutuo soccorso è una necessità.